Un forestiero! Grazie ai leggendari! Pensavo saremmo rimasti bloccati qui per sempre! Devi aiutarci piccolo amico! Quei fantasmi hanno fatto irruzione in casa nostra e ci hanno intrappolato in questo tunnel segreto! Sono venuti di giorno mentre stavamo dormendo! Ci hanno lanciati nel tunnel e hanno bloccato tutte le entrate! È orribile! Non puoi fare più di cinque passi senza scontrarti con uno dei miei fratelli! Bah? Bah bah? Cosa? Non hai visto i fantasmi? Strano! Catturano ogni folle che entra in questo posto! È orribile! Sono terribili mostri che sembrano trarre energia dalla paura e dalla sofferenza! Non immagini le cose che abbiamo sentito attraverso le pareti amico! Roba davvero inquietante! Sei fortunato ad essere riuscito a schivarli! Bah! Bah bah bah! Eh? Allora i tuoi amici sono in pericolo! Dobbiamo trovarli prima che gli spettri li catturino! Forza! Andremo a salvare i tuoi amici! Chi ha voglia di prendere a calci qualche culo spettrone? Facciamo! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicezzo su e un commento qui sotto! E non dimenticate anche di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! Ci vediamo domenica! Non mancate! Ciao! Ciao!